Bentornati al canale Amo gli italiani, con le ultime novità di oggi Il conduttore e giornalista ha risposto a tutti coloro che lo hanno criticato. Ecco quali sono state le sue parole Nel corso delle ultime ore Alfonso Signorini è tornato sui social per rispondere ad una serie di domande poste dai suoi follower Il conduttore e giornalista ha infatti condiviso una sessione di domande e risposte, dove non sono potuti mancare critiche e quesiti, riguardo la prossima edizione del Grande Fratello Vip Scopriamo insieme quali sono state le sue parole. Nel corso delle ultime ore il nome di Alfonso Signorini è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip Nel dettaglio, il conduttore e giornalista ha risposto ad una serie di domande poste da alcuni suoi followers su Instagram Tra i tanti quesiti posti dagli utenti, questo è quello che ha attirato maggiormente l'attenzione dei più curiosi Perché sei così simpatico su Instagram, e insopportabile quando conduci il Grande Fratello Vip Alla domanda del follower, Alfonso Signorini ha risposto con queste parole Non lo so, se è questo l'effetto mi dispiace, io sono sempre lo stesso Un altro utente ha poi rivolto al giornalista la seguente richiesta La prossima edizione del Grande Fratello Spero sia fatta di persone comuni, e non sia tu il conduttore, grazie Alla richiesta del suo followers, Alfonso Signorini ha risposto in questo modo Riferirò a chi di dovere, prego, GF Vip, Alfonso Signorini rivela alcuni retroscena sulla prossima edizione Ma non è finita qui, la sessione di domande e risposte che Alfonso Signorini ha condiviso sulla sua pagina Instagram, è poi proseguita con alcune rivelazioni che il giornalista ha fatto in merito alla prossima edizione del Grande Fratello Vip Queste sono state le sue parole, non ho ancora iniziato le riunioni sul prossimo Grande Fratello, vi terrò comunque aggiornati Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace, e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video